Buongiorno, rieccoci con la serie dei video sul tema di attività fisica come una potente medicina. Questo è il video numero 3 di questa serie e oggi abbiamo il take home message, il messaggio da portare a casa numero 2. Qual è? Ecco qui, è assolutamente essenziale ridurre il tempo che spendiamo seduti o di fronte a un video, un terminale o una televisione. Ok? Perché? Come sono i dati? Perché una serie di studi, questa è una review, una meta-analisi di studi pubblicata sulla rivista prestigiosa Analog of Internal Medicine, come vedete praticamente dimostra che le persone che spendono, passano un sacco di tempo sedute di fronte a uno screen, comunque sedute indipendentemente dalla quantità di attività fisica che fanno durante, di esercizio fisico che fanno durante la settimana, hanno un aumentato rischio di mortalità, come vedete qua, di mortalità cardiovascolare, di incidenza di malattie cardiovascolari, hanno un'aumentata mortalità di cancro, di incidenza di cancro, di diabete, ed è tutti significativi. Quindi, questo è uno studio. Un altro studio, recentemente pubblicato sull'ANSET, fanno vedere praticamente che, vedete in questo grafico, sull'asse delle Y, c'è praticamente il tempo che questi partecipanti, di questi quasi 1.467.000 persone che sono seguite per 2-18 anni, questo è praticamente il tempo che passano seduti e questo invece è la quantità di tempo che passano giornalmente a fare attività fisica moderata e rigorosa. Allora, chiaramente, la situazione peggiore è quando uno praticamente passa tantissime ore seduto e non fa attività fisica. Poi, la condizione migliore naturalmente è quando una persona passa poco tempo seduto e fa tante attività fisiche, poi c'è tutto, vedete, in giallo, una zona di mezzo. E lo studio suggerisce, perché è uno studio epidemiologico, fondamentalmente che nelle persone che sono estremamente attive, cioè coloro che fanno tra il 60 minuti e 70, quindi un'ora, un'ora e mezza di attività fisica moderata al giorno, al giorno, in queste persone gli effetti dello stare seduti a lungo, significa per circa otto ore al giorno, sono ridotti, sono mitigati da questo alto livello di attività fisica. Ma questo non è vero in un'altra serie di studi per coloro che guardano più di tre ore al giorno la televisione. In questi si è visto che anche alti livelli di attività fisica, 60, un'ora e mezza al giorno, non sono in grado di ridurre il rischio di passare tutte queste ore di fronte alla televisione. Quindi bisogna trovare un bilanciamento, cercare di ridurre il tempo che passiamo seduti e il tempo che facciamo attività fisica. Ora, questo studio è molto bello, è un esempio, ci sono tanti altri, naturalmente qui non posso passare ore a spiegarvi tutta la letteratura, quindi questo è uno che ho deciso di presentarvi perché è molto carino. In questo studio pubblicato nel 2020 vedete che le persone, quindi questo qua è un studio di intervento, non come gli altri epidemiologici, hanno preso delle persone e le hanno randomizzate, divise in tre gruppi. Un gruppo sedentario, non fa nulla, un gruppo invece di persone che fa 30 minuti di attività fisica la mattina e poi passa tutto il resto della giornata in ufficio, seduto a casa, e un gruppo invece che faceva 30 minuti di attività fisica e poi ogni mezz'ora, vedete, ogni mezz'ora si alzava dalla sedia e faceva tre minuti, solo tre minuti di attività fisica leggera, quindi muoversi, camminare, e vedete che hanno misurato diversi parametri, ma quello che mi interessa di più è questa aria sotto la curva dell'insulina, che vi spiegherò in altri vidi, è un marcatore di insulina sensibilità, cioè cosa si fa? Si prende una persona, gli si dà un carico di glucosio, gli fa bere 75 grammi di glucosio, il che naturalmente aumenta la glicemia e aumenta la produzione di insulina. Naturalmente più si è insuloresistenti, più alta è la produzione di insulina, che si chiama iperinsulimia compensatoria, che è un fattore di rischio prognostico negativo per l'invecchiamento. Noi sappiamo che un'eccessiva stimolazione, un eccessivo binding dell'insulina, recettori, accelera l'invecchiamento o promuove calcolo. Quindi qua cosa si vede è che nelle persone, il nero è il gruppo di controllo che non fa niente, in grigio invece ci sono quelli che hanno fatto 30 minuti di attività fisica al mattino, vedete che c'è una riduzione del 33% dell'area sotto la curva, quindi c'è un miglioramento del 33% dell'insulina sensibilità. In quelli che hanno fatto non solo i 30 minuti, ma hanno fatto questi frequenti pause, c'è una riduzione del 45% dei livelli di insulina, che è significativo rispetto al gruppo invece che faceva soltanto 30 minuti di attività fisica al giorno. Quindi c'è un ulteriore beneficio. Quindi il messaggio fondamentalmente è che dal punto di vista non soltanto epidemiologico, ma dal punto di vista biologico, fare attività fisica è importante, ma fare anche tante pause il più possibile durante la giornata è altrettanto importante e ha dei benefici su dei marcatori importanti di invecchiamento come l'area sotto la curva per l'insulina. Poi vi spiegherò più avanti i meccanismi in altri video di perché è così importante, perché l'attività fisica è così essenziale nei processi anti-invacchiamento, anti-cancro. Per finire vi do alcuni esempi di cosa faccio io, di cosa cerco di fare io durante la giornata. Allora, innanzitutto, quando telefonate, se siete in un ufficio e telefonate, se potete alzatevi, camminate mentre prese la telefonata, non state sempre seduti incollati alla... La stessa cosa, se siete a casa, guardate la televisione, non state seduti, cercate di muovere, magari di fare qualche esercizio. Un'idea potrebbe essere quella di comprarsi una bicicletta se uno ha una stanza a sé stante, si compra una bicicletta tipo quella da spinning, la mette di fronte alla televisione, se deve guardarsi il telegiornale, deve guardarsi un video, qualsiasi cosa, se lo guarda mentre fa mezz'ora di spinning. Quindi è una maniera per incorporare anche a casa quella quantità di attività fisica che nel precedente video abbiamo detto essenziale, tra i 150 e i 300 minuti la settimana come minimo. Un'altra cosa che sempre di più diversi colleghi fanno è quella di comprare questi standing desk, o praticamente delle scrivanie che possono essere rialzate, che puoi alzare o abbassare il desk, cioè il pianale, per cui puoi passare del tempo seduto, del tempo in piedi e quindi lavorare al computer, alla tastiera in piedi. Quindi questo ti permette di stare in piedi, utilizzare i muscoli per stare in piedi. Un'altra cosa è quella di alcuni colleghi a casa hanno un treadmill, cioè un tapirulan, che è predisposto per poter posizionare il proprio computer e quindi magari quando lavorano fanno una Zoom conference, una Skype conference, invece di stare seduti, camminano sul tapirulano e quindi, di nuovo, sono minuti che vengono incorporati senza prendersene conto nella routine giornaliera. Un'altra tecnica che io uso in ufficio ogni mezz'ora o un'ora, mi alzo e uso la sedia, la scrivania o comunque faccio dei push-up, faccio degli esercizi per far lavorare i pettorali, i bicipiti, i tricipiti e ci vogliono magari 10 secondi, 20 secondi, 30 secondi e se ne fai parecchi una giornata incorpori un po' di attività fisica di resistenza. Altri esempi che possono essere utilizzati, che io uso, sono praticamente se devo parlare con un collega che si trova nello stesso edificio, invece di chiamarlo al telefono, se posso, scendo e vado a trovare un'altra persona, quindi mi muovo. Un'altra cosa che una persona può fare, magari quando va al bagno, invece di andare direttamente, di tornare velocemente in ufficio, può fare tre o quattro rampe di scale. Ci sono degli studi, vi spiegherò più avanti, che fanno vedere che fare delle rampe di scale molto velocemente induce un'attivazione di alcuni marcatori molecolari di salute, come il GYUT4 ed altri, in maniera potente, veloce, quindi fare le scale il più veloce possibile, due, tre, quattro volte al giorno è un'altra maniera per incorporare attività fisica e anche attività fisica vigorosa in ufficio senza doversi cambiare e mettersi in tutta la ginnastica. Se si è in ufficio a casa, uno può andare a fare un giro ogni tanto intorno, se è una bella giornata, intorno al proprio blocco, al proprio quartiere. E infine, un'altra cosa che uso spesso con i miei studenti o con i miei ricercatori, o a volte con dei colleghi, è quello invece di fare discutere i dati di ricerca, invece di parlare dei risultati o dei progetti di ricerca in ufficio seduti, gli invito a andare a fare due passi. Quindi andiamo nel campus universitario e mentre discutiamo di ricerca per 15, 20, mezz'ora, quello che serve, lo facciamo camminando all'aria aperta, quindi prendo un po' di sole e respirando un po' di ossigeno. Quindi questi sono soltanto alcuni esempi. Poi, naturalmente, voi potete essere creativi e inventarvi quello che volete, però il messaggio, ripeto, è un messaggio importantissimo, sembra banale, ma è importantissimo. Anche se fate la vostra attività fisica regolare, quella mezz'ora, un'ora al giorno, che dovreste fare ogni giorno, questo non è sufficiente. Come questo studio dimostra, se volete ridurre un marcatore di invecchiamento importante che l'insunno-sensibilità, l'insunno-resistenza e aumentare quindi la sensibilità, è fondamentale non soltanto fare attività fisica ogni giorno, ma fare delle frequenti pause che, tra il resto, vi aiutano ad aumentare questi 30 minuti. Uno facendo tutte queste cose che vi ho detto qua, vedete, tranquillamente può fare un'ora al giorno di attività fisica, sia aerobica che di resistenza. Se poi riesci, appunto, anche a incorporarci 30-40 minuti di attività fisica programmata, piscina, bicicletta, corsa, qualsiasi ballare, qualsiasi cosa che viene strutturata, che aumenta in maniera consistente la frequenza cardiaca, respiratoria, anche con, come vi spiegherò, con quello che viene chiamato high interval training, allora avete un pacchetto perfetto che vi aiuta a ridurre il rischio di ammalarvi, che attiva tutte queste vie di segnale anti-imbacchiamento e che massimizza soprattutto il vostro benessere e la vostra forma. E con questo vi ringrazio e vi saluto e ci vediamo la prossima volta con altri video, spero, informativi, interessanti per voi, per la vostra famiglia e i vostri amici.